Presenza di alga tossica in quantità discreta e in sintesi il contenuto del bollettino che l'Agenzia regionale per l'ambiente della Puglia ha consegnato al comune di Biceglie. L'allerta giallo conferma per la città del Dolmen quelle che erano le preoccupazioni che avevano cominciato a serpeggiare con l'allerta a livello rosso segnalato per i mari di Bari, Giovinazzo e Molfetta. I giorni di grande caldo hanno favorito il dilagare della cosiddetta alga tossica che torna a preoccupare ambientalisti e bagnanti perché i primi rilievi della presenza di tossine risalgono ai primi anni 2000. Si disse allora che probabilmente la loro introduzione nel Mediterraneo sia stata causata dalle acque di zavorra delle grandi navi. Il calore, l'alta pressione atmosferica, il mare calmo, l'irraggiamento delle acque favorevole per un periodo superiore ai 15 giorni crea l'ambiente adatto per il proliferare della tossina di cui gli esseri umani si accorgono quando vengono colpiti da riniti, faringiti e laringiti, dermatiti e congiuntiviti magari accompagnati da episodi di febbre. L'ambiente marino paga invece con le sofferenze o addirittura alla moria di organismi marini come granchi e molluschi, ricci e cefalopodi. Nessuna rilevazione è effettuata da Arpa Puglia per la Ostreopsis ovata, nome scientifico della cosiddetta alga tossica, nei mari di Trani, Barletta e Margherita di Savoia. A Biceglie invece i monitoraggi ci sono e anche se il livello di allerta è considerato discreto, qui l'ambiente con i fondali rocciosi e il calmo è ideale per lo sviluppo di tossine per cui Biceglie meriterebbe maggiore attenzione da parte delle istituzioni nazionali.